Niente ragazzi continuano a sparare dall'aeroporto, non mi farlo VTR è distrutto VTR è andato A parte del fatto che abbiamo una squadra all'aeroporto, che dura relativamente poco Si Sto coso se inizia a sterzare va avanti di una roba incredibile Andiamo a congratularci con Nembo che abbiamo fatto Se magari non corri in mezzo ai mortai Ma sei serio? Sì